Sì, stiamo organizzando subito la nuova stagione, il mister Gerardo sta preparando la squadra, sta organizzando anche la preparazione iniziale ad agosto, inizieremo quasi immediatamente. I ragazzi sono tutti pronti e speriamo insomma il prossimo anno di fare un'ottima stagione. Un ritorno gratidissimo da parte mia, ritorno a casa con un gruppo di amici, una società che ha voglia di rimettersi in gioco e questo per me è un grande stimolo. Sì, do una mano all'allenatore, già dallo scorso anno con la precedente società, quest'anno continuo con l'Igolz Aprilia, speriamo di dare una mano importante per le vittorie di questa squadra. Da parte da una retrocessione che però ci sta dando grandi soddisfazioni perché stiamo allestando una squadra, a mio modesto modo di vedere, importante. Il ritorno di Gerardo Giannaccone, di Marco Frioli, un capitano che ha vestito per tanti anni questa maglia. Il mantenere il gruppo dell'anno scorso in tutti i suoi elementi, questa è una cosa importante. Dopo una retrocessione non è facile e quindi ci aspetta una grande stagione, il ritorno di Cristi vicino e poi ci saranno anche altre presentazioni proprio in questa giornata di oggi.